stai registrando? si si ora fammi un video da vicino e fammi anche qualche foto ma non c'è un modo per avvicinarlo? mette tipo lo zoom? vabbè ma con lo zoom chiudi la sotto te so vabbè tanto sto vicino vieni vieni vienime sopra che figa sta scena come sto? bene mi sono abbronzato? ancora ancora no vabbè ora fammi qualche foto col tasto ok se ce la fai si può fare anche se sta registrando? si 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 vai vai fatta? si? fanno un po' fanno un po' ok fatto grazie prego anzi sto prendendo un po' di sole insomma